Purtroppo rischia di essere l'epilogo di una vicenda industriale, probabilmente è l'ultima industria importante di multinazionale che noi avevamo e c'è una novità anche nelle modalità di chiusura. Ho avuto modo di dire che i lavoratori ormai rischiano di diventare come gli ombrelli, mi servono ti uso, quando non mi serve ti butto via e questo è francamente inaccettabile anche sul piano umano. Un caso Salerno ma più che altro forse un caso Regione Campania o un caso Italia? C'è un caso che riguarda la scelta di politiche industriali, noi ci siamo illusi nel Paese, in Italia, non soltanto in Regione Campania, che si potesse vivere soltanto di consumi, dove nessuno produce viviamo soltanto di terziario, il terziario c'è se c'è un'industria che produce, se c'è la gente che lavora, se la gente lavora c'è un consumo, c'è qualche euro in tasca per poter consumare, altrimenti sarà il disastro. Alcune dichiarazioni che io sento in queste ore, la crisi è finita, sono persino uno sfottò a coloro che continuano a soffrire. Serve un tavolo regionale? Serve un tavolo regionale e serve anche un tavolo nazionale. Sulle politiche industriali noi dobbiamo capire come riattrezziamo il territorio, che significa banda larga, che significa costo dell'energia, che significa infrastrutture, che significa formazione, che significa legalità. O si mette insieme una visione, oppure noi le grandi multinazionali li vediamo man mano che andranno via, andranno in Polonia, andranno in Turchia, andranno in Inghilterra, come purtroppo capita. Per tenerli qui noi dobbiamo offrirgli un'occasione di guadagno, un'occasione di accumulo di capitale. In questo momento non siamo evidentemente competitivi. La campagna non è competitiva? Non viene vista come un territorio dove poter investire dall'estero? Almeno sul piano industriale sicuramente no. Sicuramente se noi guardiamo l'intera campagna, l'area industriale di Napoli, se guardiamo la stessa area industriale che avevamo negli impianti Fiat ad Avellino, le vicende che sono successe a Pomigliano, ci accorgemo che c'è una riduzione drastica di un tessuto industriale che, devo dire, invece in campagna poteva ancora rappresentare un'eccellenza. La campagna nel mezzogiorno ha ancora e aveva maggior ragione un tessuto industriale tra i più importanti del Paese. Oggi questo tessuto viene polverizzato, viene smantellato e io penso ci siano grandi responsabilità politiche.